Allora, il frattempo di Piazzino, il frattempo di Piazzino, che iniziamo ad avvicinarsi, e l'altro momento invece va ad un altro marchetto che è carico di iniziative, sempre vicino a Piazzino, in questo periodo, la domani sera, lo troverete nelle piance di Riso da Pischia a portare un po' della mangiata del Natale ai tanti piccini, Dila, dice grazie a Pasquale Radon di Costanzo. Nel frattempo invita a Piazzino a Piazzino di Piazzino, che deve essere venuta, e poi andiamo, per il frattempo, mi ricordo, nel frattempo sono felice, da precedere operazioni, tra l'altro, tu devi qualcosa da leggere, questo è il tuo che ti ha venuto, aspetta un attimo, ho toccorso di ritornato, ma si porta, dopo la vediamo, non si porta, ma che simpatico pubblico. Facciamogli un applauso a Bruno. 2000 e 15 fu un anno veramente stupendo, qui da Milano, da Ischia, l'Arte, eccetera, e se io non leggo una poesia, Bruno si potrebbe arrabbiare. Quell'anno vinse la poesia artista, è particolare perché in noi, dentro l'uno di noi, c'è una pena di artista. Piccolo uomo, tu distingui dagli altri per le tue opere creative, raccolti in una parola chiamata arte. Fai spettacolo con la voce, con le femmari, con il movimento del tuo corpo lanciato in foro, fino a raccogliere le voce del cielo. Mai difedi. Continua ad improvvisare anche i versi per espandere nei cuori la bellezza del creato. Sì, in questa vita come portale, tu non rimani come le mura possenti di un castello fatto di sogni e di chimene. Resti nell'immagine di quel tuo amato fans o di chi ti ha applaudito in quell'istante della tua gloria. Tu appartieni alla bellezza della vita e tale rimarrai, anche se la tua storia sarà eternamente finita. Rendere l'ore tutti ti devono, ma tu resterai inubile e mai la tua ombra scomparirà, anche quando il tuo fiato torna nel cielo e tutto il tuo mondo scomparirà. Grazie a Dio. Grazie. Grazie.